Ciao a tutti, in questo video parleremo delle reazioni di edizione nucleofile, utilizzo il telefono questa volta, vediamo se riesco a fare meglio, perché la qualità del video non era buonissima con la telecamera di prima. Quindi cominciamo con la reazione generica di un'edizione nucleofile, quindi schema generale, quindi un nucleofilo attaccato per esempio all'idrogeno che reagisce con un aldeide. Un po' più in piccolo magari. Quindi abbiamo il nucleofilo che reagisce con un aldeide e mi produce, quindi in generale, questo qua. Quindi ossigeno, qua c'è il nucleofilo, qua c'è un legame e qua c'è un altro legame. Sì, erano questi due qua praticamente generici, quindi è entrato il nucleofilo in poche parole. Quindi si rompe il legame, il doppio legame qui, quindi un legame sigma e un legame pi greco, e si formano due legame sigma, uno con il nucleofilo e uno con l'ossigeno. Ah, ovviamente, dimenticavo, entra anche l'H, quindi si forma un alcol. Quindi da un gruppo carbonilico si forma un gruppo ossidrilico. Poi, o che sia un alcol o meno, dipende forse anche dal nucleofilo, anche se nucleofilo di solito sono alogeni, credo. Quindi dipende. Beh, può essere anche l'ossigeno in effetti. O H, però in questo caso, nucleofilo, beh, potrebbe essere H meno. Poi lo vedremo comunque in casi particolari. Quello che invece adesso mi interessa farvi capire, è che ci sono due tipi di meccanismi con cui può avvenire la formazione, quindi, cioè con cui può avvenire l'addizione nucleofila. Quindi abbiamo il primo caso, che è quella senza catalisi acida. senza catalisi acida, e quella con catalisi acida. Schrivo velocemente, tanto non dico parole. La prima, allora abbiamo, nella prima che ci sono due, due momenti importanti. l'addizione del nucleofilo. Poi vedremo anche un esempio. E la protonazione dell'ossigeno, quindi protonazione dell'ossigeno, del carbonile. Invece, per quanto riguarda quella con catalisi acida, abbiamo protonazione dell'ossigeno del carbonile, quindi con H+. Poi abbiamo addizione nucleofila, chitto male, vabbè. Comunque, addizione nucleofila, c'è scritto. E nel terzo passaggio abbiamo rilascio catalizzatore da nucleofilo legato all'idrogeno, quindi rilascio del catalizzatore da nucleofilo legato ad H. Così. Ok, perfetto. Nel prossimo video vediamo questi due meccanismi. Vediamo il primo dei due meccanismi di questi due meccanismi in modo più dettagliato.